di alessandro manzoni i promessi sposi voce di lorenzo pieri capitolo trentesimo parte seconda nel castello tra quella moltitudine formata a caso di persone varie di condizione di costumi di sesso ed età non nacque mai alcun disordine di importanza l'innominato aveva messe guardie in diversi luoghi le quali tutte invigilavano che non seguisse nessun inconveniente con quella premura che ognuno metteva nelle cose di cui s'avesse a rendergli conto aveva poi pregati gli ecclesiastici e gli uomini più autorevoli che si trovavano tra i ricoverati d'andare in giro e di invigilare anche loro e più spesso che poteva girava anche lui e si faceva a vedere per tutto ma anche in sua assenza il ricordarsi di chi s'era in casa serviva di freno a chi ne potesse aver bisogno e del resto era tutta gente scappata e quindi inclinata in generale alla quiete i pensieri della casa e della roba per alcuni anche di congiunti o d'amici rimasti nel pericolo le nuove che venivano di fuori abbattendo gli animi mantenevano e accrescevano sempre più quella disposizione c'era però anche deccapi scarichi degli uomini di una tempra più salda ed un coraggio più verde che cercavano di passare quei giorni in allegria avevano abbandonato le loro case per non essere forti abbastanza da difenderle ma non trovavano gusto a piangere e a sospirare su una cosa che non c'era rimedio né a figurarsi e a contemplare con la fantasia il guasto che vedrebbero purtroppo con loro occhi famiglie amiche erano andate di conserva o si erano ritrovate lassù saranno fatte amicizie nuove e la folla si era divisa in crocchi secondo gli umori e l'abitudini chi aveva danari e discrezione andava a desinare giù nella valle dove in quella circostanza si erano rizzate in fretta osterie in alcune i bocconi erano alternati con sospiri e non era lecito parlare d'altro che di sciagure in altre non si rammentavano le sciagure se non per dire che non bisognava pensarci a chi non poteva o non voleva farsi le spese si distribuiva nel castello pane minestra e vino oltre alcune tavole che erano servite ogni giorno per quelli che il padrone vi aveva espressamente invitati e i nostri erano di questo numero agnese perpetua per non mangiare il pane a ufo avevano voluto essere impiegate nei servizi che richiedeva una così grande ospitalità e in questo spendevano una buona parte della giornata il resto nel chiacchierare con certe amiche che si erano fatte o col povero don abbondio questo non aveva nulla da fare ma non sannoiava però la paura gli teneva compagnia la paura proprio d'un assalto credo che la gli fosse passata o seppur gliene rimaneva era quella che gli dava meno fastidio perché pensandoci appena appena doveva capire quanto poco fosse fondata ma l'immagine del paese circonvicino inondato da una parte e dall'altra da soldatacci le armi e gli armati che vedeva sempre in giro un castello quel castello il pensiero di tante cose che poteva nascere ogni momento in tali circostanze tutto gli teneva addosso uno spavento indistinto generale continuo lasciando stare il rodio che gli dava il pensare alla sua povera casa in tutto il tempo che stette in quell'asilo non se ne discostò mai quanto un tiro di schioppo né mai mise piede sulla discesa l'unica sua passeggiata era ad uscire sulla spianata e d'andare quando da una parte quando dall'altra del castello a guardar giù per le balze e per i burroni per istudiare se ci fosse qualche passo un po praticabile qualche po di sentiero per dove andar cercando un nascondiglio in caso d'un serra serra a tutti i suoi compagni di rifugio faceva gran riverenze o gran saluti ma bazzicava con pochissimi la sua conversazione più frequente era con le due donne come abbiamo detto con loro andava a fare i suoi sfoghi a rischio che talvolta gli fosse dato sulla voce da perpetua e che lo svergognasse anche agnese a tavola poi dove stava poco e parlava pochissimo sentiva le nuove del terribile passaggio le quali arrivavano ogni giorno o di paese in paese e di bocca in bocca o portate lassù da qualche d'uno che da principio aveva voluto restarsene a casa e scappava in ultimo senza aver potuto salvar nulla e a un bisogno anche malconcio e ogni giorno c'era qualche nuova storia di sciagura alcuni novellisti di professione raccoglievano diligentemente tutte le voci abburattavan tutte le relazioni e ne davan poi il fiore agli altri si disputava quali fossero i reggimenti più indiavolati se fosse peggio la fanteria o la cavalleria si ripetevano il meglio che si poteva certi nomi di condottieri da alcuni si raccontavano l'impresa e passate si specificavano le stazioni e le marce quel giorno il tal reggimento si spandeva nei tali paesi domani andrebbe addosso a tali altri dove intanto il tal altro faceva il diavolo e peggio soprattutto si cercava di avere informazione e si teneva il conto dei reggimenti che passavano di mano in mano il ponte di lecco perché quelli si potevano considerare come andati e fuori veramente del paese passano i cavalli di wallenstein passano i fanti di merode passano i cavalli di anhalt passano i fanti di brandeburgo e poi i cavalli di monte cuccoli e poi quelli di ferrari passa al tringer passa furstenberg passa colloredo passano i croati passa torquato conti passano altri e altri quando piacque al cielo passò anche galasso che fu l'ultimo lo squadron volante dei veneziani finì d'allontanarsi anche lui e tutto il paese a destra e a sinistra si trovò libero già quelli delle terre invase e sgombrate le prime erano partiti dal castello e ogni giorno ne partiva come dopo un temporale d'autunno si vede dai palchi fronzuti d'un grandalbero uscire da ogni parte gli uccelli che ci si erano riparati credo che i nostri tre fossero gli ultimi ad andarsene e ciò per volere di don abbondio il quale temeva se si tornasse subito a casa di trovare ancora in giro l'anzichenecchi rimasti indietro sbrancati in coda all'esercito perpetua ebbe un bel dire che quanto più si indugiava tanto più si dava agio ai birboni del paese d'entrare in casa e portare via il resto quando si trattava ad assicurar la pelle era sempre don abbondio che la vinceva meno che l'imminenza del pericolo non gli avesse fatto perdere affatto la testa il giorno fissato per la partenza l'innominato fece trovare pronta alla malanotte una carrozza nella quale aveva già fatto mettere un corredo di biancheria per agnese e tiratala in disparte le fece anche accettare un gruppetto di scudi per riparare al guasto che troverebbe in casa quantunque battendo la mano sul petto essa andasse ripetendo che ne aveva lì ancora de vecchi quando vedrete quella vostra buona povera lucia le disse in ultimo già son certo che prega per me poiché le ho fatto tanto male ditele adunque che io la ringrazio e confido in dio che la sua preghiera tornerà anche in tanta benedizione per lei volle poi accompagnar tutti e tre gli ospiti fino alla carrozza i ringraziamenti umili e sviscerati di don abbondio e i complimenti di perpetua se gli immagini il lettore partirono fecero secondo il fissato una fermatina ma senza neppure mettersi a sedere nella casa del sarto dove sentirono raccontar cento cose del passaggio la solita storia di ruberie di percosse di sperpero di sporchizie ma lì per buona sorte non si erano visti lanzichenecchi ah signor curato disse il sarto dandogli di braccio a rimontare in carrozza sa da far dei libri in istampa sopra un fracasso di questa sorte dopo un'altra po di strada cominciarono i nostri viaggiatori a veder con loro occhi qualche cosa di quello che avevan tanto sentito descrivere vigne spogliate non come dalla vendemmia ma come dalla grandine e dalla bufera che fossero venute in compagnia tralci a terra sfrondati e scompigliati strappati i pali calpestato il terreno e sparso di schegge di foglie di sterpi schiantati scapezzati gli alberi sforacchiate le siepi i cancelli portati via nei paesi poi usci sfondati impannate lacere paglia cenci rottami d'ogni sorte a mucchio seminati per le strade un'aria pesante zaffate di puzzo più forte che uscivano dalle case la gente chi a buttar fuori porcherie chi a raccomodar le imposte alla meglio chi incrocchio a lamentarsi insieme e al passar della carrozza mani di qua e di là tese agli sportelli per chiederle lemosina con queste immagini ora davanti agli occhi ora nella mente e con l'aspettativa di trovare altrettanto a casa loro ci arrivarono e trovarono infatti quello che s'aspettavano agnese fece posare i fagotti in un canto del cortiletto che era rimasto il luogo più pulito della casa si mise poi a spazzarla a raccogliere a rigovernare quella poca roba che le avevano lasciata fece venire un legnaiuolo e un fabbro per riparare i guasti più grossi e guardando poi capo per capo la biancheria regalata e contando quei nuovi ruspi diceva tra sé son caduta in piedi sia ringraziato il dio e la madonna e quel buon signore posso proprio dire d'essere caduta in piedi don abbondio e perpetua entrarono in casa senza aiuto di chiavi ogni passo che fanno nell'andito senton crescere un tanfo un veleno una peste che li respinge indietro con la mano al naso vanno all'uscio di cucina entrano in punta di piedi studiando dove metterli per riscansar più che possono la porcheria che copre il pavimento e danno un'occhiata in giro non c'era nulla d'intero ma avanzi e frammenti di quel che c'era stato lì e altrove e se ne vedeva in ogni canto piume e penne delle galline di perpetua pezzi di biancheria fogli dei calendari di don abbondio cocci di pentole e di piatti tutto insieme o sparpagliato solo nel focolare si potevano vedere i segni di un vasto saccheggio accozzati insieme come molte idee sottintese in un periodo steso da un uomo di garbo c'era dico un rimasuglio di tizi e tizzoni spenti i quali mostravano ad essere stati un bracciolo di seggiola un piede di tavola uno sportello d'armadio una panca di letto una doga della botticina dove ci stava il vino che rimetteva lo stomaco ad un abbondio il resto era cenere e carboni e con quei carboni stessi i guastatori per ristoro avevano scarabocchiato i muri di figuracce ingegnandosi con certe berrettine o con certe cheriche e con certe larghe facciole di farne depreti e mettendo studio a farli orribili e ridicoli intento che per verità non poteva andar fallito a tali artisti a porci esclamò perpetua a baroni esclamò don abbondio e come scappando andaron fuori per un altruscio che metteva nell'orto respirarono andaron diviato al fico ma già prima d'arrivarci videro la terra smossa e misero un grido tutte e due insieme arrivati trovarono effettivamente invece del morto la buca aperta qui nacquero dei guai don abbondio cominciò a prendersela con perpetua che non avesse nascosto bene pensate se questa rimase zitta dopo che ebbero ben gridato tutte due col braccio teso e con l'indice appuntato verso la buca se ne tornarono insieme brontolando e fate conto che per tutto trovarono a un di presso la medesima cosa penarono non so quanto a far ripulire smorbare la casa tanto più che in quei giorni era difficile trovare aiuto e non so quanto dovettero stare come accampati accomodandosi alla meglio o alla peggio e rifacendo a poco a poco usci mobili utensili con danari prestati da agnese per giunta poi quel disastro fu una semenza ad altre questioni molto noiose perché perpetua a forza di chiedere e domandare di spiare e fiutare venne a saper di certo che alcune masserizie del suo padrone credute preda o strazio dei soldati erano invece sane e salve in casa di gente del paese e tempestava il padrone che si facesse sentire e richiedesse il suo tasto più odioso non si poteva toccare per don abbondio giacché la sua roba era in mano di birboni cioè di quella specie di persone con cui gli premeva più di stare in pace ma se non ne voglio saper nulla di queste cose diceva quante volte ve lo devo ripetere che quel che è andato è andato ho da esser messo anche in croce perché mi è stata spogliata la casa se lo dico rispondeva perpetua che lei si lascerebbe cavare gli occhi di testa rubare agli altri è peccato ma a lei è peccato non rubare ma vedete se codesti sono propositi da dirsi replicava don abbondio ma volete star zitta perpetua si chietava ma non subito subito e prendeva pretesto da tutto per riprincipare tanto che il pover uomo si era ridotto a non lamentarsi più quando trovava mancante qualche cosa nel momento che ne avrebbe avuto bisogno perché più d'una volta gli era toccato a sentirsi dire vada chiederlo al tale che là e non avrebbe tenuto fino a quest'ora se non avesse a che fare con un buon uomo un'altra e più viva inquietudine gli dava il sentire che giornalmente continuavano a passar soldati alla spicciolata come aveva troppo bene congetturato onde stava sempre in sospetto di vedersene capitare qualche d'uno o anche una compagnia sull'uscio che aveva fatto raccomodare in fretta per la prima cosa e che teneva chiuso con gran cura ma per grazia del cielo ciò non avvenne mai né però questi terrori erano ancora cessati che un nuovo ne sopraggiunse ma qui lasceremo da parte il pover uomo si tratta ben d'altro che di sue apprensioni private che di guai da alcuni paesi che d'un disastro passeggero grazie a tutti